Bisogna proseguire con ferma, decisa volontà e con velocità anche sulla strada delle grandi riforme, in particolare di quelle costituzionali, perché il compito del Parlamento e degli eletti che lo compongono è quello di assicurare la modernizzazione del Paese, per garantire l'affidabilità dell'Italia non solo di fronte all'Europa, ma a tutto il panorama internazionale. La politica, così facendo, potrà trovare il consenso e sarà nuovamente legittimata agli occhi degli elettori che sapranno meglio comprendere e accettare le scelte difficili e le rinunze alle quali sono stati chiamati. Un nuovo patto tra cittadini, partiti e istituzioni garantirà a tutti voi un futuro sereno, quel futuro sereno che noi siamo tenuti e obbligati a garantirvi. Le istituzioni esistono, esistono per garantire la democrazia, l'interesse, il bene del Paese e la sua crescita.